ciao a tutti belli di casa ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore come state cuccioli belli oggi vado a fare una richiesta di un follower che mi ha chiesto mi fai il risotto mirtilli e ragù è tanto tempo che me lo stai chiedendo quindi grazie mille dell'attesa arrivo ritardo ma arrivo tutto quello che vi chiedete prima o poi arriva e lo vedete andiamo a creare il mio risotto mirtilli e ragù perché è una cosa guarda caso io facevo nel mio ristorante dove lavoravo non mio di proprietà e era molto molto apprezzato e quindi vi rifarò quella versione lì allora iniziamo con il ragù così abbiamo tutto il tempo poi di dedicarci alla tostatura del riso preparazione eccetera perché il ragù ha bisogno di tempo quindi iniziamo con sedano classico fondo carote infine cipolla un chiodo di carofano e infine una foglia dall'oro facciamo soffriggere piano piano dopo appena un minuto il tempo di far tirar fuori il meglio degli odori vado a mettere la carne macinata queste sono le porzioni ovviamente per 200 grammi di carne macinata non è tantissimo quindi non dovete esagerare ho una carota tre costine di sedano e mezza cipolla niente di esagerato ok il mio macinato è metà maiale metà manzo oggigiorno si trovano anche già preparati già il mix preparato nei supermercati se non lo trovate andate al vostro macellaio e ve lo fate fare adesso pepe chi vuole un sapore più deciso peperoncino ovviamente andiamo di sale e adesso andiamo con un bel bicchierozzo di vino rosso dopo 5 minuti di soffrittura fatta bene il vino ci deve essere ragazzi il vino rosso è quello che si sposa con tutto e da quel sapore di casa quel sapore di famiglia quindi facciamolo evaporare facciamo evaporare la parte alcolica per far evaporare la parte alcolica non dovete bere il succo ma dovete semplicemente aspettare un minuto un minuto e mezzo evaporata la parte alcolica andiamo con la passata di pomodoro se volete pelati se volete concentrato di pomodoro libera scelta il pomodoro non deve essere tanto quindi per 200 grammi di carne io dico 150 massimo 200 ml di pomodoro il mio ragù deve essere 70 per cento carne e 30 per cento pomodoro non è il pomodoro la parte importante di questa ricetta storica mondiale italiana ma è la carne si deve sentire la carne si devono sentire gli odori il pomodoro fa da contorno fa un po da copertina per raggruppare tutto quanto adesso si abbassa la fiamma e si lascia lì mezz'ora 40 minuti allora iniziamo la preparazione del riso tostatura a secco tostatura a secco perché tira fuori quel bel sapore dal dal riso tira fuori quel sapore del grano e il chicco mi rimane integro non mi si va a spappolare quindi tostatura senza aggiunta di grazie niente quello lo faremo dopo in un secondo tempo le domande più classiche sono quanto tempo devo tostare il riso per essere tostato un minuto e mezzo un minuto un minuto e mezzo e come me ne accorgo o lo prendete in mano e sentite che è bollente o ve ne accorgete dal profumo e anche dal colore perché il riso diventerà un po bianchiccio molto più bianco di adesso adesso riso tostato che cosa faccio non mi va di mettere troppa cipolla perché l'ho messa già nel ragù allora prendo gli scarti della cipolla non li butto e li metto dentro ok faccio fare una tostatura al volo con un pezzo di cipolla che poi andrò a rimuovere ovviamente metto olio extravergine così insieme anche una nocina di burro perché con la tostatura del riso secondo me ci sta da dio e voilà adesso facciamo tostare bene sciogliere bene tutto e poi andremo a continuare la cottura adesso schizzo di vino bianco mamma mia quanto ci piace facciamolo evaporare la tostatura del riso io la adoro perché amo il risotto in tutte le versioni in tutte le maniere lo potete fare come volete io lo mangerò sempre e poi burro cipolla olio vino che matrimonio ragazzi adesso vado dentro con acqua bollente perché non uso brodo perché voglio che si sente il sapore neutro del riso e non venga troppo coperto dagli odori tanto gli odori già ce ne abbiamo tanti nel ragù non c'è bisogno di metterli anche nel risotto per come la vedo io poi ognuno a casa sua fa quello che vuole l'acqua deve essere o il brodo per il vostro caso se lo utilizzate deve essere sempre sempre bollente la temperatura non si deve mai abbassare altrimenti farete un risotto spappolato e non fatto a dovere adesso tolto la cipolla i pezzi di cipolla e vado avanti così con la cottura per un paio di minuti l'acqua va messa un poco alla volta così la gestite meglio e vi regolate meglio per la cottura perfetta finale in più la cremosità aumenta basti vedere in pochi secondi già si vede una crema biancastra è spettacolare il riso è sempre stata la mia passione e ho cercato il metodo migliore per ottenere il massimo da questo piano prima della seconda gettata di acqua vado a mettere i mirtilli così a freddo li facciamo cucinare insieme al risotto e questi rilasceranno un colore meraviglioso a tutto quanto io li metto interi c'è chi li frulla prima non ho mai trovato problemi nel romperli in cottura quindi fate voi io faccio il metodo più pratico intanto qui ragù si è cucinato che cosa faccio a fuoco spento vado a mettere un ramoscello di rosmarino così e metto il coperchio che mi vada ad insaporire il ragù però senza rilasciare come può accadere in cottura le spine le spie quelle un po fastidiose se vanno sotto al dente no altrimenti lo volete tritare tritatelo io faccio così perché mi rilascia un sapore meno invadente quindi coperchio e lasciamolo allora guardate qui dopo tre quattro minuti di cottura guardate bel colore che ha rilasciato un violaceo incredibile e ovviamente non lo dico ma è scontato che ogni volta che mettete l'acqua dentro a ogni passaggio assaggiate se sta bene di sale se non sta bene di sale lo mettete se è troppo in là col sale non vi preoccupate perché poi avete ancora un'altra terza gettata e forse anche quarta di acqua ed è per quello che se ne mette un poco alla volta si gestisce alla grandissima per ottenere un ottimo risultato all'incirca per ogni porzione di risotto vanno 30 50 grammi di mirtilli a me piacciono quindi anche se ne metto 55 non mi sento male e il profumo a me piace da morire allora eccoci qui ci siamo ho spento il fuoco lo giro un altro pochino diciamo 10 15 secondi non fatelo troppo troppo tirato lasciatelo un pochino liquidino ma nel senso ecco vedete che si vede un po di liquido sotto no perché adesso dobbiamo fare la mantecatura una volta fatta la mantecatura questo si va un po a tirare e quindi è per quello che vi dico non fatelo troppo troppo denso altrimenti verrà un mappazzone allora mantecatura burro freddo deve essere freddo perché deve dare la sensazione del cremoso e solo il burro freddo la da parmigiano un cucchiaio due cucchiai uno e mezzo scegliete voi questa è libera scelta non c'è una regola scritta e adesso si va a mantecare già so che tutti quanti mi chiederanno tutti quanti una parte di voi mi chiederanno ma è proprio necessario mettere il burro alla fine per fare la mantecatura sì assolutamente sì se si vuole ottenere questo risultato qui cioè cremoso un colore più vispo e un risotto davvero cremoso ragazzi miei è quello che dà il un lancio in più al risotto quindi se volete un ottimo risultato in tavola lo dovete fare se volete un risultato buono potete anche evitarlo quindi sta a voi guardate qui guardate qui il risultato finale guardate che bello che è mamma mia che appetito che mette adesso piatto caldo si mette il risotto dentro si fa allargare bene con un mestolo vado a fare una sorta di buco al centro così vedete faccio lo spazio no così e poi vado a mettere il ragù praticamente questo buco qui va a dare il benvenuto al ragù eccolo qui secondo me questo è un risotto che mette appetito è molto molto buono prima di tutto ma poi anche molto bello al centro non facciamo altro che metterci un ramoscello di rosmarino così e il mio risotto mirtilli e ragù è pronto da servire in tavola allora cuccioli bellissimi guardate qui che bel connubio di colori ma soprattutto di sapori perché quando si parla di cucina la prima cosa che conta è il sapore guardate il ragù come vi dicevo non deve far spazio al pomodoro ma è il pomodoro che deve far spazio agli odori e alla carne per me questo è un piatto top che dovete assolutamente riprovare in casa io lo provo adesso ma che bontà ma che bontà ma chi sa mangiato sto piatto qua lo mangio io guardate qua mamma mia eccoci qua questo è il piatto che porterete a tavola ai vostri commensali secondo me è un piatto che si può utilizzare anche per le grandi occasioni quindi un compleanno un anniversario non lo so una comunione se la fate a casa perché non tutti si possono permettere di andare ai ritorienti e prenotare per 70 persone no questo è veramente un piatto che vi fa fare una gran bella figura è spettacolare è spettacolare è buonissimo la carne i pezzettoni di carne vanno alla grandissima con tutto il resto insomma rifatelo passo passo come l'ho fatto io avrete un risultato spettacolare volete essere altri alternativi per l'inverno potete sostituire il ragù di manzo con quello di cinghiale e non vi dico altro alla prossima ciao mamma mia